Fino a sette mesi fa le aperture di attività commerciali in centro storico, secondo i dati del SUAP del Comune, erano state circa 60 in un anno. In questi mesi altre attività hanno aperto, altre hanno dovuto chiudere invece i battenti. Una realtà delle cose che si compensa in un centro storico ancora in ricostruzione. Spesso i sottoservizi, la presenza dei cantieri, le brusche interruzioni di energia e altre difficoltà oggettive su tutti i parcheggi rendono incerta la vita degli esercenti aquilani. Non si può dire che in centro non ci sia commercio ad oggi, ma sono ancora tante le difficoltà e soprattutto a fare ancora la parte del leone sono le attività di intrattenimento, bar, ristoranti o pub. Per gli altri commercianti si arranca ancora. La storia dei due artigiani di Piazza Palazzo, Laura Caliendo e Gabriele Di Mizzio, è indicativa e racconta tanto delle difficoltà del centro. Ai social qualche giorno fa hanno affidato il loro garbato sfogo. La loro sperimentazione in Piazza Palazzo, una delle zone che sta diventando più attrattive, è durata un anno e mezzo, lavorando anche di domenica. Hanno deciso però di tornare oggi nel loro laboratorio di scoppito. In centro, forse tra 5-8 anni, ci torneremo, scrivono. Una scelta oculata, raccontano, e non dettata da colpi di testa, ma da sperimentazione sul campo. Il centro storico è il nostro primo amore ovvio e notorio, tuttavia non funzionale alle esigenze operative della nostra attività. Un artigiano ha bisogno di essere sul posto dove produce opere e reddito. Il suo habitat naturale deve essere dove dà il suo meglio, dove riesce ad esprimersi al top del potenziale. I due commercianti parlano di un centro in evoluzione e sviluppo, ma anche loro convengono, come tanti, sul fatto che ad oggi il centro storico, ancora per qualche anno, sarà funzionale solo per le attività di intrattenimento e servizi, per avventori occasionali durante le belle giornate e gli eventi che pure ci sono e di qualità. Il problema dei parcheggi, poi, resta un problema enorme. Della stessa opinione è anche Roberto Grillo, presidente dell'Associazione L'Aquila Centro Storico, che raccoglie attività produttive, residenti e liberi professionisti. Per Grillo il discorso è che si è creduto di poter far ripartire il centro attraverso i negozi, già con la vecchia amministrazione, un discorso anche giusto. Il problema d'oggi è che le persone che visitano il centro sono insufficienti per permettere al commerciante di sopravvivere, ma non solo per i numeri, anche per la mancanza di attitudini all'acquisto, spiega. Sulla stessa lunghezza d'onda, il direttore regionale di Confcommercio, Celso Cioni. Per lui mancano gli attrattori pubblici, gli uffici. Senza gli uffici, senza le scuole, senza i parcheggi, senza tutti questi pezzi del puzzle, il centro storico non potrà funzionare e non si potrà tornare ai numeri del presisma. 30.000 persone che durante la settimana circolavano per il centro.